Inizia la presentazione del progetto Casabio. I circoli di lega ambiente di Agropoli, Ponte Cagnano e Salerno presenteranno il progetto Casabio, un centro di formazione e di incubazione di start-up che offre formazioni su agricoltura biologica, allevamento responsabile, apicultura e acquacultura. Ogni percorso è associato all'avvio di imprese e alla certificazione dei prodotti al fine di permettere alle popolazioni locali di entrare in un nuovo tessuto economico, ambientale e sociale. Quattro anni di attività per un progetto che è nato durante la pandemia che continua a generare un impatto positivo e sostenibile. Il racconto verrà sopportato dall'esperienza di Francesco Sant'Andrea, Marta Cornacchia e Nicola Donati dell'associazione Progetto A di Faenza. Il nostro obiettivo è quello di instaurare un interscambio culturale e valorizzazione di alcune produzioni locali, tessuti per arrivare a un processo di sviluppo autonomo e legato alle tematiche dello sviluppo sostenibile.